Missile Poletti, nuovo centro della Tezani Sverona, cosa porta Poletti a Verona? Spero di portare quello che serve, quello che mi verrà chiesto, una presenza sotto canestro, che è quello che in questo momento mancava un pochino per l'assenza di magganza. Nonostante la squadra abbia, secondo me, superito benissimo a tutto questo, cercherò di essere appunto un giocatore in più per portare rimbalzi, fisicità, insomma tutto quello che viene richiesto a un lungo e quello che mi sarà richiesto proverò a farlo nel migliore dei modi. Come hai trovato la squadra e i tuoi nuovi compagni in questi primi allenamenti? Li ho trovati molto bene, ho trovato un gruppo che ha voglia di lavorare sicuramente con una presenza veramente importante e quindi sono molto contento, ho trovato una squadra seria ma serena, appunto che è consapevole del fatto che può fare delle cose importanti, quindi sono molto contento da questo punto di vista e spero appunto io di poter dare una mano, di poter essere utile fin da subito e ringrazio in questo momento per questi primi due giorni lo staff, la squadra, i compagni per come mi stanno aiutando anche loro a entrare nella nuova casa. Vieni dal Girone Ovest, l'altro Girone, quali pensi siano le differenze tra i due? Onestamente il Girone Est sicuramente viene descritto come più forte, più importante e penso che grande parte di questa cosa, di questo pensiero sia il fatto che ci sono delle società di blasone più grosso, più alto, più importante rispetto a quelle del Girone Ovest. Penso che la grande differenza sia nel momento in cui si gioca più volte alla settimana, l'anno scorso i play-off si è visto che i roster più lunghi del Girone Est erano nettamente più preparati, magari di quelli del Girone Ovest dove c'è una lunghezza diversa dei roster, però credo che finché si gioca la regular season una volta alla settimana le differenze non siano così spiccate, per cui sono curioso anche io comunque di capire se e quanta differenza c'è e cercare di farmi trovare pronto. eventualmente. Un messaggio per i tifosi? Un messaggio per i tifosi, come ho detto, sono già stato d'avversario qui a giocare a Verona e ho trovato un ambiente bellissimo, spero finalmente di viverlo da giocatore di casa, quindi sono contento, emozionato e spero di vederne molti venerdì contro Forlì. Grazie.